ci siamo? allora ragazzi questa è praticamente una semplice mascherina quella che vende normalmente al ferramento e vi faccio vedere come una semplice mascherina riesce a trattenere l'acqua quando facciamo carburante io ho comprato un semplice imbuto con un filtro per filtrare le parti diciamo più grosse inserisco la mia mascherina dentro e poi metto il secondo filtro qua dentro devo fare un po di pressione ecco si è agganciato quindi c'è il primo filtro e il secondo filtro sotto allora vi faccio vedere questa è benzina quello che rimane della benzina vi faccio vedere come scende la benzina la benzina è scesa adesso invece vi faccio vedere come invece trattiene l'acqua questa pezza che mi sto usando per pulire quindi sul padeo d'acqua vieni vieni inquadra qua il filtro hai visto che bella piena d'acqua l'acqua non scende adesso metto la benzina dell'acqua faccio vedere come la benzina scende adesso come scende la benzina l'avete visto